Ok, allora, io vi racconto un po' delle mie storie abitudinarie da San Diego. Allora, come di queste, a un tempo si aveva, diciamo, un'accessibile abitudine di suonare e questo tipo di blues è da blues in locali, fatti in led, quindi prima di una catapecchie, e vestiti con l'abito della cometa, quindi questo vero si chiama Perushius, dal fatto che si fa in bagno a scappare l'abito. C'è un po' di vita, dove riusciti a un po' di più, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti